ancora qualche giorno di vacanza per clizia e paolo e loro si stanno divertendo questa volta assieme a gabriele e annina ciao ragazzi scusate non mi sono fatta viva questi giorni ma troppe cose per valigie bambini comunque adesso siamo in partenza ultimi giorni di vacanze ciao barbie ciao c'è un baby artista un papà figo che beve il caffè amore mio che sta disegnando che cosa lei era la lady queen di un ristorante ma cinque anni dopo lei è diventata un mostro lì dentro wow tipo un demone con le conna wow che brava aspetta che io faccio le conna e nina e gabriele si divertono a disegnare mentre paolo prende un caffè e clizia come al solito col telefono